studenti di pop tutorial italia bentornati qui sulla nostra piattaforma youtube qui il vostro enrico de marco pronto a spiegarvi una nuova coreografia oggi studieremo do you di troi voi una prima parte per voi free per tutti e vi aspetto poi sulla nostra piattaforma per studiare il pezzo intero insieme a me siete pronti andiamo bene ragazzi andiamo a cominciare il pezzo si chiama come già detto do you di troi boy e partirà al set quindi inizieremo così gambe parallele ginocchia leggermente piccate 7 sentirete un e lui di lei dirà do you love me e noi faremo 7 e le braccia che si incrociano destra dietro sinistro in avanti e vado a legare le dita avete presente quando da piccoli si faceva tipo fidanzate con me vabbè da me si faceva così ci fidanziamo così faremo una cosa del genere quindi sarà sul 7 le braccia le dita si incrociano da qui facciamo girare le dita blocco e vado a me quindi sarà 7 e 8 ci siamo ancora lento 7 e base d'accordo questo è il mio modo di partire se volete trovare un altro modo per dire tu mi ami do you love me cercate il vostro modo questo è quello della mia colorafia però è personale ecco se qualcuno vuole creare qualcosa di diverso lo può fare 7 e 10 clic base da qui ragazzi andiamo a partire step 1 le mie braccia fanno questo semicerchio arrivo centrale 7 e 1 7 e 1 clic da qui wave e scendo verso il basso all'altezza delle anglie la mia gamba destra si allarga e la sinistra spinge già al primo passo facendo 1 chiudo 2 da qui batto 3 3 ancora lento 7 e step 1 e 2 3 vedete che il peso è rimasto qua sulla gamba destra quindi prima faremo questo e poi questo centrale di nuovo lento 7 e braccio destro che piega facciamo 4 5 da qui le mie gambe fanno 4 e alzo su 4 5 quindi insieme alle mie braccia braccio destro gamba destra braccio sinistro gamba sinistra spostando il peso il primo sarà semplicemente e qui invece con il secondo sposto anche il mio peso quindi da qui faremo 4 5 stacca la gamba sinistra spingendo via la destra 6 quando succede qui ragazzi la gamba sinistra prende il centro del mio corpo e la gamba destra allarga invece nel lato scalciata dalla prima la mia gamba cerca di fare questo movimento un po' di rotazione se vogliamo avete visto cosa ho fatto 7 e poi già lì incrociando in avanti e questo sarà 6 rivediamo con calma partendo dall'inizio 5 6 7 8 1 e 2 3 4 5 stacca 6 6 e voilà le mie braccia ragazzi quando c'è questo 6 7 allargano verso l'esterno e fanno 6 7 8 6 verso l'esterno e noi siamo qui faremo da giù semicerchio braccia strette 6 e spingendo qui nel lato tutto chiaramente insieme alle gambe quindi faremo 6 e da qui sentirete 7 nella botta sarà forte sentirete nella musica 7 la mia testa si spinge verso il basso e nei gomiti si piegano attenzione guardate il riferimento è questo il gomito non cambia posizione piega soltanto e si sposta verso l'esterno quindi faremo questo 7 spostando la testa verso le braccia le braccia verso la testa 7 ci siete di nuovo lento 5 6 e 8 1 2 3 4 5 6 e 7 ci siamo andiamo subito avanti da qui ragazzi da qui ragazzi le mie braccia vanno a chiudere e conteremo 8 1 2 7 e 8 a 1 2 cosa succede qui ragazzi guardiamo fermiamoci un secondo sulle mie gambe faremo il lavoro di punta con la gamba a destra contorcendo lavoro con la gamba sinistra tallone ancora tallone gamba destra e e qui sarà 3 con il braccio destro rivediamolo con calma 5 6 7 8 punta tallone tallone cap lento 6 7 e punta tallone tallone avete visto cosa ho fatto questo giro e cerco comunque di mantenere il mio corpo in torsione quindi il mio busto spinge sempre un po' sul lato destro 7 e punta tallone tallone la mia spalla destra spinge quella di qua e qui sarà 3 ok ora quando è la partenza di questo lavoro qua siamo arrivati a 7 8 chiudono le gomiti da qui insieme parte le mie gambe 8 e 1 2 3 1 2 3 1 2 3 8 1 2 3 di nuovo lento 5 6 7 8 1 2 3 da qui e le mie gambe sciolgono e porto semplicemente con un saltino le mie gambe in parallelo e porto il mio braccio destro verso il basso 3 3 qui e 4 5 wave che parte dal lato sinistro fino alla destra 4 5 6 e 7 8 e ora succede qui attenzione do you need me dice nella musica e ne faremo da qui wave quindi tutto un po' in trasporto no boom le gambe vanno il braccio tira quindi da qua sono in disequilibrio sulla sinistra salgo tiro e e da qui facciamo hap e hap chiudo do you need me do you need me 5 6 7 and cross e hap voo attenzione a questo passaggio cross e hap voo se vi è più utile diciamo pensate di incrociare allargare spingere però io questo non lo conto faccio voo 7 and 7 7 8 cross e hap voo d'accordo tutto questo sarà in semplice camminata come se volessimo discutere quindi abbiamo fatto questo 3 4 5 sposta la gamba sinistra insieme alle braccia piccolo passo cross e hap voo e finisco nel vostro punto 8 quindi nella diagonale sinistra d'accordo i primi di 8 sono già andati eh come va rivediamolo in secondo con calma partendo dal secondo 8 noi siamo qui a 7 8 e 1 2 3 e 4 5 6 7 8 ancora lento 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ci siamo la musica e poi c'è questo mood molto semplice adesso vi farò capire anche facendo i primi di 8 già in musica così da cercare di capirci prima di continuare poi ed è tutto una musica che rientra quindi i tempi sono in realtà molto semplici perché il pezzo fa e questo è il mood che si ripete sempre ok quindi riguardiamolo con calma e partiamo da 7 5 6 click and 1 2 3 4 5 6 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ci siamo? la velocità chiaramente non è questa è un pochino più veloce però se riuscite a seguirmi già questa velocità probabilmente riuscirete anche in musica rivediamola ancora con calma e poi facciamo una piccola prova in musica 5 6 7 8 10 roll cup 1 2 3 4 clap boom giù click 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 wave wave 2 2 2 2 come andata ci siamo un'ultima volta tempo vero e poi la proveremo insieme con la musica due volte 5 6 7 hop 1 2 click hit bounce roll and giù click 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 wave 2 2 2 è un po' più rapido d'accordo non ho contato perché altrimenti la velocità di dire 2 3 Non riuscivo ad andare dietro la musica. È abbastanza chiaro? Tempi precisi, ordine. Io direi di cominciare con la musica. Facciamo un primo test. Pronti? Vai! Bene ragazzi, questa è la musica. La sua partenza è all'incirca intorno alla trentina di secondi. È da contare, contate con me. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com'è? Non è semplice, lo so, però sono convinto che possiamo studiarlo insieme. Ancora una volta e non ci fermiamo qui, però attenzione. Provatelo tante tante volte. Non vi fermate alla prima prova insieme a me. Rifacciamola ancora insieme subito e poi tornate indietro. Vai musica DJ! Tenti la musica da questo soft. 5, 6. Come è andata ragazzi? Bene ragazzi di Pop Tutorial Italia, per oggi io mi fermo qui. Un abbraccio forte. Vi ricordo che se vi va di continuare a studiare questo pezzo insieme a me, la nostra piattaforma Urbanet Secret è disponibile e aperta per voi. Qui sotto vi lascio il commento per entrare insieme al link a tutte le informazioni necessarie e noi ci vediamo al nostro prossimo video. Ciao!